e a furor di popolo a grande richiesta come migliorare il download di specifici programmi i mule e torrent ma io ho fatto una cosa di più perché alcuni non usano sempre i mule e torrent logicamente per scaricare file gratis, gratuiti, liberi, per scambiarsi dei documenti cartacei per tante cose logicamente, non per illegalità, ammettiamo perché io sono contro l'illegalità cazzo cazzo perciò i programmi che ho selezionato per voi che vi possono servire sono bit torrent azbooster e fei accelerator della fei tools allora andiamo a vedere, logicamente troverete i link dove scaricare i software in descrizione ma andiamo al dunque al primo troviamo della fei tools, troviamo eccolo qua, download fei accelerator se leggete sotto nei download c'è anche un fei torrent per windows e per mac per mac non l'ho provato visto che non mi offendete tra poco perché non ci hanno 3500 insulti ma non mi piace la mac cioè il sistema operativo lo devo ammettere cioè eccellente, buono, come tutti quanti sistemi operativi ha qualche pecca ma tra un mac e un computer ad occhi chiusi comprierei un computer a meno che se non mi regalo un mac me lo venderei per farmi un computer ancora meglio di quel mac che mi hanno regalato con gli stessi soldi di seconda mano comunque, non ve lo consiglio questo qua perché quello che io vi ho detto di scaricarvi è download fade accelerator se appena cliccate sul nome appartirà automaticamente il download qui invece BitTorrent e ZBooster andate in download e automaticamente, maledizione io che ci clicco ecco qua ah no no no, mi sono dimenticato in download, ecco, external mirror 1 e 2, se non funziona 1 premete sul 2 se non funziona il 2 premete 1 se non funziona nessuno del 2 va a pigliate in culo un poche parole allora, arriviamo al dunque, il succo iniziamo con questo che è più facile solo ed esclusivamente per torrent lo accendiamo lo accendiamo, pare che è una macchina e selezioniamo vedete, minimizze quit selezioniamo il nostro modem e qui so cazzi perché a me me ne appaiono tanti perché faccio tante cose però anche ad alcuni appariranno perché appariranno pure le connessioni bluetooth perciò non si sa come fare perciò per sapere qual è il vostro diciamo il vostro network interface cioè quello che si collega di internet e c'è una maniera molto semplice andiamo nella gestione dei dispositivi del nostro computer perciò computer tasto destro, proprietà e andiamo in gestione dispositivi in questo caso lo potete fare anche se siete in windows xp se non erro perché windows xp lo uso una volta ogni tanto lo sto usando di più per fare le vostre guide allora impostazioni ecco qua di sistema in windows xp è lo stesso identico procedimento start, computer tasto destro fate impostazioni avanzate di sistema e andate su hardware oh hardware gestione dispositivi in bocca parola in 7 è stato più semplificato alla gestione dei dispositivi scendiamo fino a quando non troviamo scheda di rete ecco qui troviamo il dispositivo bluetooth da me ne trovate due poi c'è wireless dovete vedere qual è la wireless o la linea che state usando cioè se state usando con il cavetto di rete linea cablata cioè il cavetto di rete si chiamerà scheda lan allora qua dove è scritto ah qua nemmeno ah eccolo qua ethernet control questo qui l'ethernet è quello lì che è con il cavetto di rete in poche parole invece per chi ha il wifi troverete scritto wireless wifi non è tanto difficile chi ha come me usa un usb particolare un'esterna apposta troverete scritto usb selezionati in poche parole ritornando al programma dovete selezionare la scheda che è stata usata in questo momento va bene perciò wifi cablata spinotto scendiamo sotto c'è anche la mia usb va bene fate questo qui accelerator on cioè già automaticamente partito e qui si sta facendo vedere i nostri risultati clicchiamo su minimizze e l'abbiamo minimizzato infatti è qua sulla barra oppure lo possiamo chiudere con quit ma andiamo al programma che mi è piaciuto di più rispetto a questo questo è solo per torrent e basta clic dove dobbiamo andare accelerator accendiamo questo mi segui io ho sbagliato scusatemi ho sbagliato ho preso il file di installazione un attimo che vi riprendo subito il file exe lato eseguibile signori grande magia ho messo già eseguibile eccolo qui lo apriamo eccolo qua è la stessa sul faticolo di prima solo che questa è una bella caratteristica che mi è piaciuto tanto ma proprio bella allora innanzitutto andiamo qui selezioniamo logicamente la nostra connessione va bene in questo caso è da me l'USB ripeto da voi saluta cosa nella gestione dei dispositivi però qui possiamo scegliere fra i nostri software peer to peer file sharing e roba del genere che abbiamo installato nel nostro computer in questo caso nel mio computer è installato solo emule e torrent ma andiamo con esattezza a vedere fino a quanti diciamo software di scaricamento può supportare questa sciccheria di fail accelerator utorrent azareus ares bit comet mai sentito questo ve lo devo dire lemwar bit share allora in bocca di c++ è micidiale se avete però giga e tera da condividere ma vi dico logicamente di file aperti cioè film liberi cose gratuite logicamente è micidiale fa paura questo di c++ e all'inizio è difficile da capire bisogna seguire parecchi tutorial e soprattutto se siete persone che state sempre di fronte al computer lo dovete mantenere come se fosse un cazzo di figlio ma vi dico che con dc++ cioè è inutile fare qualche modifica perché se tu più condividi e più ricevi ma se prendi gli giusti hubs che è capace che con alcuni scarichi tipo 30 giga in davvero in un giorno comunque questi sono tutti i programmi software supportati da questo programmino è micidiale proprio una volta che abbiamo selezionato il nostro programma eccolo qua finito andiamo run è partito tutto qua non facciamo vedere queste cose chiudiamole immediatamente chiudiamo e minchia non si chiude ma non male se no ti stavo chiudendo in un'altra maniera perfetto se premiamo la x io vi faccio vedere che è ancora qui nella nostra barra se la vogliamo chiudere definitivamente dobbiamo cliccare con il tasto destro del mouse e premere exit a grande furor popore richiesta vi ho dato pure questo software non mi fate altre richieste più particolari perché già su questa mi sono sbilangiato cap'è mi sono un pochino eh 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 perciò minimo minimo voglio almeno solo perché ho fatto questa cosa qua un mi piace e un condividi no un condividi no un commenta si datemi dello strozzo si allora si che sarà un bel commento arrivederci grazie e continuate a seguirmi ciao 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 ciao